La Fondazione Sacra Famiglia La Fondazione Sacra Famiglia La Fondazione Amesci Enrico Maria Borrelli Buongiorno e bentrovato Buongiorno a voi Ecco, dicevamo di un'esperienza importante per tantissimi giovani Una possibilità che ancora una volta viene offerta anche nel futuro Ma che già nel corso degli anni, come dicevamo, abbiamo solo accennato da alcune cifre E' risultato essere un punto fondamentale nel sistema sociale del nostro Paese Ecco, a questo proposito come possiamo riassumere tanti anni di servizio civile in Italia? Beh, sicuramente un'esperienza molto interessante Una politica introdotta nel nostro Paese nel 72 Quindi come alternativa alla leva militare E questo lo ricordiamo tutti Ha fatto da poco 50 anni il servizio civile Nata come un'opportunità alternativa In realtà poi si è rivelata essere una struttura del nostro Paese Perché tanti giovani, tanti enti, tanti progetti Che intervengono annualmente nel territorio nazionale Non solo in Italia, in realtà anche all'estero Rappresentano chiaramente una fortificazione degli interventi sociali Un'opportunità per ricostruire legami sociali Per far lavorare insieme istituzioni e giovani Organizzazioni del terzo settore e giovani Quindi avvicinare i ragazzi non solo ad esperienze di impegno Ma anche a realtà nelle quali possono poi continuare attività di volontariato E non dimentichiamo che il servizio civile Si è rivelato essere negli anni non soltanto un'esperienza di partecipazione Un'esperienza di formazione Ma in realtà anche un'esperienza particolarmente utile Da un punto di vista della formazione al lavoro Perché i ragazzi per 12 mesi sono impegnati in maniera strutturale All'interno di organizzazioni e progetti Che gli trasferiscono competenze utili per l'occupazione Ed erano proprio questi gli aspetti che emergevano Proprio dalle testimonianze che abbiamo incontrato Nel corso delle puntate in cui abbiamo trattato di questo tema Appunto con importanti realtà che operano nel nostro territorio nazionale Questa esperienza che va oltre l'impegno per 12 mesi È un'esperienza appunto che come diceva lei Apre diverse possibilità non solo di crescita personale Con l'incontro, con situazioni anche molto difficili da affrontare Ma che sicuramente arricchiscono anche in vista Nella prospettiva di possibilità di lavoro Una sorta di orientamento anche sul campo Sì, il servizio civile è sicuramente questo Infatti se dovessi consigliare ad un giovane L'esperienza di servizio civile Gli consiglierei di farla Magari in un periodo anche precedente Alla scelta di uno studio universitario Se vogliamo anche ad un indirizzo lavorativo Perché è un'occasione per i ragazzi Di prendersi un anno di tempo Dedicarlo a loro stessi Fare un'esperienza che sia anche di messa in opera Delle conoscenze Delle competenze che loro acquisiscono in altri contesti Quindi è qualcosa che può sicuramente servire All'orientamento dei giovani E un po' come si diceva anche Ad entrare in contatto con quella che è la realtà Nella quale i giovani poi si troveranno ad operare da adulti Quindi conoscere la propria comunità Comprendere quali sono i bisogni Che non sono tutti ed esclusivamente sociali Ci occupiamo di ambiente Di promozione della cultura Di promozione e tutela dei diritti umani Quindi c'è tanto Che può arricchire chiaramente La formazione e l'orientamento di un giovane Molto spesso i ragazzi trovano In questa esperienza anche una motivazione Utile al loro orientamento Parlavamo di oltre un milione di giovani Coinvolti nel corso degli anni In questa esperienza Ed è la possibilità che è aperta Ad oltre 70 mila giovani In questo ultimo bando Che aveva come scadenza il 10 febbraio Ma che se non sbaglio è stata Ulteriormente prorogata Come data come possibilità appunto di aderire Allora come funziona questo bando? Ci sono attualmente 71.550 opportunità Di fare servizio civile in Italia In oltre 3.500 progetti Quindi un ventaglio Una scelta enorme per i ragazzi I giovani possono presentare domanda Direttamente online Dotati di speed Questa è una precondizione Quindi l'identità Il sistema pubblico Di identità digitale Fanno domanda scegliendo l'ente Il progetto, il territorio Il settore in cui vogliono impegnarsi Avanzano una candidatura E chiaramente per quelli di loro più idonei Si farà una prima fase veloce di selezione Dei curricola Si farà un colloquio motivazionale Per conoscersi Quindi i giovani incontrano gli enti Che dovranno ospitarli E gli enti hanno la possibilità Anche di valutare le motivazioni L'idoneità dei ragazzi A partecipare Dopodiché i giovani possono partire Per questa esperienza Che dura 12 mesi È retribuita anche con 440 Euro al mese Che è un rimborso spese Che lo Stato mette a disposizione Quale incentivo per i giovani Che partecipano al servizio civile Se vanno all'estero In realtà il contributo è ancora maggiore Questo voglio dirlo Ai ragazzi che cercano spesso Anche un'esperienza di mobilità internazionale Andare all'estero vuol dire Avere anche la possibilità Di fruire di vitto e alloggio gratuitamente Di avere un rimborso mensile Che sostiene anche le spese all'estero All'incirca i ragazzi percepiscono 900 Euro di rimborso mensile Ai quali aggiungendo vitto e alloggio Possiamo dire che Il servizio civile Si candida a essere Una delle esperienze Di mobilità internazionali Più ricche Più facili Anche per i giovani La scadenza è per il 20 febbraio Quindi invitiamo tutti i ragazzi A andare sui nostri siti Sul sito istituzionale Del dipartimento E verificare quali sono le opportunità Che a loro interessano di più Magari anche quelle che insistono Nei territori in cui vivono i giovani E' un invito che continueremo a fare Anche in vista della stessa scadenza Dal nostro canale Perché reputiamo sia fondamentale Un cammino sicuramente importante Da fare per tanti giovani Ma a questo proposito In conclusione Presidente Borrelli Ecco Anche incontrando appunto Le realtà coinvolte Che offrono questa possibilità Di svolgere il servizio civile Abbiamo compreso Quanto sia bella Come esperienza da fare Sotto diversi punti di vista E abbiamo notato Una certa sensibilità Da parte di queste realtà Nell'aprirsi ai giovani Con questo servizio Ma dal punto di vista Ecco dell'opinione pubblica Più in generale Voi siete attivi Attraverso la realtà Della MESC Con lo stesso Servizio civile nazionale In un'opera continua Di sensibilizzazione Ecco la percezione Dell'opinione pubblica italiana Rispetto a questa possibilità C'è ancora tanto da lavorare? Sicuramente sì Perché è un'esperienza Che ancora non arriva Pienamente Ai giovani E questo Questa non è una Diciamo una responsabilità Solo della comunicazione Dobbiamo dire Che il servizio civile È vero che è interessato Un milione e duecentomila giovani Di cui la metà All'incirca Erano Hanno fatto servizio civile In epoca di leva obbligatoria Quindi l'esperienza Del volontariato Ha coinvolto ad oggi Poco meno di seicentomila ragazzi Che sono tantissimi Ma comunque ancora pochi Rispetto ad un paese Quindi L'opinione pubblica È sempre più sensibile Sempre più attenta Al servizio civile Oramai Lo si conosce un po' meglio Non benissimo Come sarebbe Giusto presentarlo Perché il servizio civile Non soltanto È insieme all'esercito L'unico altro strumento Di difesa della patria Che noi abbiamo Nel nostro ordinamento giuridico Quindi è una cosa Molto importante Il servizio civile Non è un progetto È un istituto della Repubblica Deputato alla difesa della patria Chiaramente Attraverso interventi Di carattere sociale Di tutela Delle fragilità Di promozione dei territori Quindi una difesa della patria Molto più moderna Vicina anche Alla sensibilità dei giovani Ma è anche l'unico luogo Che è rimasto Che abbiamo nel nostro paese In cui le istituzioni Quindi lo Stato in particolare Incontra i giovani Su un piano di educazione Alla cittadinanza attiva Alla partecipazione Quindi questo è un Molto spesso Noi segnaliamo L'atomizzazione della nostra società Una gioventù Se vogliamo Meno generazioni Giovani generazioni Meno attenti alla partecipazione Non è così Sono molto sensibili ai temi Il servizio civile Per loro è un'opportunità Di mettere in pratica Il loro desiderio Di essere protagonisti Di partecipare In un qualche modo Di avviarsi alla vita adulta Con le responsabilità Della vita adulta Tra queste Anche l'essere cittadini attivi Una possibilità Da non perdere Assolutamente Di fronte anche A certi orientamenti Che possono anche Trarre in inganno I giovani Promettendo situazioni Più comode Restando a casa Ecco quella Del servizio civile Nazionale È una grandissima opportunità Per mostrare Innanzitutto Le proprie potenzialità Dare il proprio contributo Per l'interna nazione E quindi Vedersi aperte anche Delle prospettive Lavorative Importanti Io ringrazio Di cuore ancora una volta Il presidente Del forum nazionale Del servizio civile Della fondazione Amesci Enrico Maria Borrelli Con la promessa Di ritrovarci Quanto prima Proprio perché Riteniamo Che questo Non sia un argomento Da trattare Soltanto in vista Di scadenze Ma di Da trattare Quotidianamente Per far entrare Sempre di più Nella percezione pubblica L'importanza di questo servizio Grazie e buon lavoro Grazie Grazie a voi Per questi spazi E questa opportunità Grazie a tutti